Allora, stiamo girando questo video perché qualcuno di voi mi ha fatto giustamente delle domande di chiarimento e quindi un video di chiarimento della lezione che riguarda il secondo modello atomico, ovvero quello di Ernest Rutherford. Vediamo un po', in particolare Pietro e Massimiliano mi chiedono di rivedere un secondo in cosa consiste fondamentalmente l'esperimento della lamina d'oro e come funziona il modello di Rutherford. Vi ricordo che nel libro siamo a pagina 175, cioè le pagine che stiamo analizzando sono quelle da pagina 175 e pagina 181. Dunque, rivediamo un secondo il concetto a partire dalla radioattività. Io vi ho detto che è un piccolo cenno questo della radioattività, nel senso che poi affronteremo l'argomento in maniera un po' più dettagliata. Per ora ci accontentiamo di questa semplice definizione, che poi è la prima che storicamente è stata data proprio da Rutherford, ovvero di potere penetrante delle particelle. Cioè, riassumiamo velocissimamente, ci sono delle sostanze che naturalmente emettono delle particelle radioattive, appunto, che sono penetranti, quindi possono arrivare a essere pericolose. Si pensi ai raggi gamma, ma anche, insomma, tutta la questione dell'area di attività, che comunque, appunto, come vi dicevo, merita un capitolo a parte e lo affronteremo verso fine anno. Per ora ci accontentiamo di descrivere le particelle alfa, beta e gamma, che sono i tre tipi fondamentali di radioattività che dobbiamo studiare, riferiti al potere penetrante, di cui vi parlavo, la capacità, appunto, di penetrazione. Quindi, se volete, in un certo senso, questo potere è collegato all'intensità dell'area di attività stessa. In particolare, ci soffermiamo dei tre possibili raggi radioattivi su quello alfa. Vi ricordo che le particelle alfa sono particelle positive e fondamentalmente poi è stato scoperto, allora Rutherford ovviamente non poteva saperlo, ma ai primi del Novecento, ma poi è stato scoperto essere praticamente dei nuclei di elio. Vi ricordo che l'elio è il secondo elemento della tavola periodica, il suo nucleo è composto da due protoni e due neutroni. Quindi è una carica positiva doppia, alfa più più, se volete sintetizzarla in qualche modo, e ha una discreta capacità penetrante, ma in realtà basterebbe lo spessore di un foglio di carta per fermarla. Questa radioattività, come dire, è stata indagata da Rutherford, anzi è stata sfruttata e utilizzata da Rutherford per un esperimento importantissimo insieme ai suoi collaboratori Geiger e Marsden, in particolare di Geiger vi ho già parlato, e vorrei soffermarmi un secondo con voi su questo esperimento in cui è stata usata una lamina d'oro. Ora, vi ho appena detto che la capacità penetrante delle particelle alfa è relativa, nel senso che possono essere fermate da un foglio di carta, ma allora voi direte perché invece è stata usata una lamina d'oro, non dovrebbe anche questa essere abbastanza spessa da fermare le particelle alfa? Ebbene no, perché la lamina d'oro utilizzata da Rutherford è chiaramente una lamina sottilissima, ed è stato scelto l'oro proprio perché l'oro, grazie alla sua malleabilità, alla sua rigidezza, alla sua densità, le caratteristiche che lo rendono un materiale preziosissimo, è stato preziosissimo nel tempo, lo è ancora, proprio per questa sua versatilità, si riesce a produrre, a creare una lamina sottilissima, molto più sottile di un foglio di carta, pensate addirittura che le lamine d'oro sono state usate in pittura moltissime volte, tra i pittori moderni mi viene in mente Klimt, per esempio, ma nella tradizione dei capolavori bizantini, soprattutto, e della Russia ortodossa, basti pensare alle icone, nelle quali i pittori, i monaci pittori di icone utilizzavano spesso queste lamine d'oro per dare questo effetto che richiama appunto la divinità, in un certo senso, questa brillantezza delle opere. Non ho pensato a cercarvi qualche opera di questo tipo, ma lo farò in seguito. Ora, vediamo un po' questo esperimento in cosa consiste. Allora, ho cercato di costruire un'immagine che fosse un po' più chiara rispetto a quella che abbiamo utilizzato l'altra volta, ovvero, voi immaginatevi questo schermo a cerchio, quasi completamente chiusa, con una fessura, una fenditura che permette il passaggio di queste particelle alfa, e quindi qua abbiamo una sorgente radioattiva, per esempio, qua abbiamo messo come esempio una tipica sorgente di emissione di raggi alfa, quindi di particelle alfa, e la trasformazione del radon in piombo, no? Il radio emette particelle positive nel suo decadimento fino a diventare piombo, e queste particelle positive sono appunto le particelle alfa, più, più, il doppio più è dato dal fatto che sono composte da due protoni, ve lo ripeto. Allora, quindi immaginatevi questa sorgente radioattiva, che viene utilizzata per sparare, in un certo senso, per indirizzare un fascio, un raggio appunto di particelle alfa, verso questa lamina d'oro, quindi come potete vedere dallo schermo, dall'immagine, qua questa è la sorgente radioattiva, questo è il fascio di particelle alfa, quindi una serie indefinita di particelle numerosissime, di particelle alfa, che viene da questo decadimento radioattivo, e l'incontro con la lamina d'oro ne determina che cosa? Ne dovrebbe determinare un attraversamento netto, senza nessuna interferenza. In che senso? Nel senso che, se guardiamo il modello di Thomson, che abbiamo studiato fino alla lezione scorsa, questo, il famoso modello a panettone, che vi ho rappresentato qui in questa immagine, prevede che l'atomo sia una sorta di sferetta nel complesso neutra, ma in realtà di una carica positiva nel suo complesso, totale, incastonata con tante cariche negative che ne compensano la positività. Quindi, sì, l'atomo è neutro, ma è neutro per il fatto che questo ammasso, diciamo, fondamentale positivo, è tempestato da tante particelle negative, i famosi elettroni di cui Thomson è stato il primo a scoprire nell'esistenza. Ora, un atomo del genere attraversato dalle particelle alfa lascerebbe passare praticamente tutte le particelle indisturbate, perché l'atomo, appunto, è neutro, queste particelle sono positive e quindi non risentirebbero in nessun modo di nessuna interferenza, diciamo così, nell'attraversamento. Se anche volessimo considerare l'incidenza delle particelle negative nel passaggio di queste particelle alfa, qua non vi ho scritto, queste frecce rosse sono proprio le particelle alfa di cui parlavamo, vi dicevo, se anche volessimo considerare l'effetto degli elettroni, questo sarebbe minimo perché gli elettroni sono decisamente più piccoli dei protoni, stiamo parlando di almeno 10 alla terza volte più piccoli, ok? Quindi, diciamo, trascurabile l'effetto che avrebbero nell'attraversamento delle particelle alfa. Ma invece, quello che succede, con grande stupore di Rutherford e dei suoi due collaboratori, è che, mentre la maggior parte delle particelle, attraverso indisturbata la lamina d'oro, alcune particelle vengono deviate, addirittura respinte da questa lamina d'oro. Badate bene che Rutherford dirà, era come sparare su un foglio di carta e vedere i proiettili rimbalzati dal foglio di carta. Ora, questo paragone deve farvi pensare non alla reale, come dire, associazione, pallottola, particella alfa e foglio di carta lamina d'oro. Ma è un modo di fare, come dire, di spiegare lo stupore che affiora nel pensiero, nella mente di Rutherford rispetto a questi risultati. Quindi, perché? Perché una lamina d'oro non poteva assolutamente così fine, non poteva, secondo le conoscenze finora acquisite, fino ad allora acquisite, non poteva in alcun modo deviare o interrompere il flusso di queste particelle, ok? Quindi queste particelle cosa fanno? Anziché attraversare, ve lo ripeto, la lamina d'oro indisturbate, perché la lamina d'oro è fatta di atomi e gli atomi, fino a quel momento, si credeva fossero degli atomi neutri nel loro complesso, con queste piccole particelle detti elettroni intorno. Insomma, se fosse stato vero il modello di Thomson, queste particelle alfa avrebbero dovuto passare indisturbate la lamina d'oro. E quindi lo schermo fluorescente, che è quello che è fluorescente perché rivela la presenza delle particelle alfa, avrebbe dovuto illuminarsi solo in corrispondenza del raggio lanciato. Quindi da questa parte, se guardate il disegno, esattamente opposto, insomma, lo schermo avrebbe dovuto segnalare la presenza delle particelle alfa esattamente dall'altra parte della sorgente radiattiva. Quello che succede è che invece alcune, pochissime, ve lo ripeto, visto che questo era uno dei vostri dubbi, pochissime delle particelle alfa lanciate, diciamo così, che quindi con raggio radioattivo intercettano la lamina d'oro, vengono respinte. Respinte vuol dire deviate, addirittura tornano indietro. Vedete qua, queste sono tutte frecce di deviazione e di ritorno indietro. Ora, quante? Quante, vi ho detto l'altra volta, circa una su diecimila. Vuol dire che delle diecimila, anzi in realtà dei milioni di particelle lanciate contro questa laminata, ora solo una su diecimila veniva respinta o deviata dalla lamina d'oro. Ok? Quindi la maggior parte delle particelle passa attraverso la lamina. Pochissime, appunto in una percentuale dello 0,00001%, una su diecimila appunto, no? tornano indietro o comunque vengono deviate dalla lamina. Cosa ne deduce Rutherford? Rutherford ne deduce che il nucleo non può essere più così, modello a panettone di Thomson, bensì deve essere in qualche modo presente nell'atomo un nucleo, ok? Un nucleo centrale positivo che è quello che determina le deviazioni delle pochissime particelle che vengono in effetti deviate. Quindi immaginatevi che queste siano di nuovo, questi raggi rossi, siano di nuovo il raggio, le particelle alfa lanciate dalla radioattiva, dalla sorgente, solo quelle che incozzano sul nucleo in qualche modo vengono o deviate, in questo modo, oppure addirittura respinte. Chiaro? Il punto è, cosa vuol dire solo una su diecimila? Vuol dire che se io sparo una serie di particelle su un atomo e solo una su diecimila viene, come dire, respinta, vuol dire che praticamente l'atomo ha un nucleo centrale piccolissimo ed è fondamentalmente vuoto. In che senso è fondamentalmente vuoto? Nel senso che se fosse, se la struttura fosse diversa da questa, cioè se non ci fosse un nucleo positivo, non avrebbe questa deviazione di pochissime particelle. In base a che cosa queste particelle alfa sarebbero dovute essere respinte o deviate da un atomo? L'unica spiegazione che viene in mente a Rutherford è quella dell'esistenza di un nucleo, di un nucleo a carica positiva. E guardate che questa intuizione basata su questo esperimento si rivela assolutamente felice, nel senso che effettivamente adesso noi sappiamo che esiste un nucleo. Lo sappiamo talmente bene che si svilupperà tutta una branca di studi che si chiama la fisica nucleare, di cui anche parleremo successivamente, che affronta non solo la scomposizione dell'atomo, ma addirittura appunto la scomposizione del nucleo. Cioè vedremo che i nuclei stessi si possono studiare, sono stati studiati poi successivamente dai fisici. Quindi, per, diciamo così, tirare le somme che ci permettono di arrivare a... questa è l'immagine che usevamo l'altra volta, che ci permettono di arrivare quindi al modello planetario di Rutherford. Le particelle alfa passano praticamente tutte indisturbate attraverso l'atomo, tranne quelle che incozzano con il nucleo che ha la stessa carica, e avendo la stessa carica, due cariche dello stesso segno si respingono, e quindi a quel punto le particelle alfa avrebbero dovuto cambiare traiettoria. Da notare che gli atomi dell'oro sono nettamente più grossi, più grandi dell'atomo di elio, cioè, scusate, il nucleo degli atomi di oro è nettamente più grande del nucleo degli atomi di elio. Se volete avere un riscontro, basta che guardiate la tavola periodica. Il loro ha un numero atomico 79, il che vuol dire che nel nucleo dell'oro sono presenti 79 protoni. Nel nucleo dell'elio, che trovate qui in alto a destra, sono presenti due protoni. Quindi, come dire, le particelle alfa incontrano dei nuclei nettamente più grandi di loro, ok? Due persone incontrano una folla di 79 persone, o due mele vanno a cozzare contro un sacco dove ce ne sono 79. Quindi è chiaro che vengano respinte. Tutte le altre mele passano. È chiaro il concetto e spero che sia più chiaro adesso. Ora, la cosa sconvolgente, che vedo che ha lasciato perplesso anche chi mi ha fatto qualche domanda, vi dicevo, è questa relativa alla struttura dell'atomo di Rutherford, perché se da qui a qui quasi tutte le particelle passano indisturbate, solo pochissime vengono respinte, vuol dire che c'è spazio vuoto. Cioè vuol dire che tra... Voi immaginatevi che una lamina d'oro ha una serie di atomi con struttura rigida uno di fianco all'altro, diciamo così, nel caso più estremo di quasi bidimensionalità della lamina. Cioè, se si riuscisse cose che stanno provando a fare col carbonio, quasi si stanno riuscendo a fare delle fibre talmente fini da essere addirittura fini quanto un atomo, potremmo avere quasi una bidimensionalità, no? Potremmo quasi escludere una tridimensionalità in un certo senso, o comunque la terza dimensione sarebbe trascurabilissima. Ora, immaginatevi che una lamina d'oro è una situazione che tende a questa roba qui, quindi una serie di atomi, una barriera di atomi, uno di fianco all'altro, fondamentalmente, che viene attraversata da questo flusso immane di particelle alfa, le quali praticamente passano tutte indisturbate, il che vuol dire che c'è solo spazio vuoto, perché una particella alfa può passare indisturbata solo se non incontra nulla. Non so se mi spiego. Quindi, se addirittura di 10.000 particelle solo una viene respinta, vuol dire che tutte le altre passano indisturbate, perché trovano spazio vuoto. Vuol dire che l'atomo è fondamentalmente vuoto, ragazzi. È una cosa, come vi dicevo l'altra volta, sconvolgente, perché sarebbe come dire, vi rifaccio l'esempio, forse adesso vi risulta più chiaro, immaginatevi di essere in uno stadio da calcio vuoto, adesso sarebbe sicuramente vuoto, visto che hanno fermato anche il campionato, almeno una cosa bella c'è stata del coronavirus, cioè che il calcio si è fermato. Se prendete uno stadio di calcio, non mettete un pallone al centro, ma mettete una capocchia di spillo, cioè mettete, se preferite, un semino, un seme di senape, o un semino di qualcosa, quello è il nucleo se tutto lo stadio è l'atomo. Quindi, nel complesso, immaginatevi uno stadio che raffigura l'atomo, al centro dello stadio c'è un granellino di qualcosa, un seme di una pianta, ok? Quello è il nucleo. E tutto intorno a questo nucleo, ma a distanze notevoli, cioè stiamo parlando appunto degli spalti del famoso stadio, si trovano delle piccoli granelli di polvere, quindi ancora più piccoli del seme, come vi dicevo prima, il protone è circa mille volte più grande dell'elettrone, questi granelli di polvere sparsi negli spalti. Ora, il modello è stato chiamato planetario, perché è quello che più si addice a descrivere, e anche perché nella nostra mente è facile, come dire, arrivare a visualizzarlo, è quello del nostro sistema solare, in cui c'è un sole, che sarebbe il corrispondente, l'analogia è col nucleo, il sole è il nucleo, e i pianeti sono queste particelle, questi elettroni, che sì esistono, come aveva scoperto Thompson, ma esistono come rotanti intorno al nucleo, a distanze abissali dal nucleo, cioè a distanze molto grandi. Per cui, nel complesso, questo insieme energetico, perché alla fine è solo energia, l'atomo, ed è pochissima materia, questo insieme energetico è fatto proprio così, un nucleo con al centro, un nucleo positivo con al centro, poi si scoprirà protoni e neutroni, e gli elettroni che girano intorno, esattamente come potrebbero essere dei pianeti, intorno al sole, ma con delle distanze, in proporzione, nettamente maggiori, e questo è più o meno uno schema semplificato di quello che potrebbe succedere. Quindi questi sono gli elettroni, vedete, questo è il nucleo, e quindi gli elettroni orbitano, girano intorno al nucleo, perciò il modello planetario è proprio questo. Questi sono gli elettroni che girano intorno al nucleo, questo è il nucleo, e questo, ovviamente questo disegno non rispetta le proporzioni, perché nell'analgia che vi ho fatto, questo cerchio blu che sarebbe il nucleo, sarebbe il famoso seme di senape, o scegliete voi di cosa, la famosa capocchia di spillo, e questi sarebbero, mille volte più piccoli di questi, sarebbero i granelli che stanno intorno, sugli spalti, come vi ho detto io, i granelli di polvere che stanno intorno al nucleo. Spero di essere stato chiaro, comunque nella prossima lezione online, eventualmente gli ultimi dubbi possono essere fugati. Passate una buona giornata, a presto!